Lutto nel cinema per la morte di Paul Ehrman, l'attore famoso per aver recitato nei Soprano e in molte altre notte pellicole, tra cui anche The Irishman di Martin Scorsese, morto nel giorno del suo 76esimo compleanno. A darne la notizia è stato l'amico e collega Michael Imperioli, con un post su Instagram. Pauli era un bravo ragazzo, un narratore di prima classe e un attore bravissimo. Non è ancora nota la causa della morte dell'attore. Grazie per la visione!